Quando vuoi iniziare a mangiare bene, devi togliere, eliminare un po' il piacere. Difatti quelli che oggi mangiano veramente bene sono quelli che dicono no, io mangio senza, mangiano senza sale, inizia a mangiare senza olio, mangi senza zucchero. Ieri sono andato a casa di un amico estremamente salutista, abbiamo mangiato senza sedie. Ho detto ma che cazzo dobbiamo fare? Fa mangia e cammina che digerisci, via che siamo partiti con sta zuppa così a correre attorno al tavolo. Io ho detto boh, forse a questo il sangue gli va tutto alle gambe, però al cervello non gli arriva un cazzo. Vai, mangia, mangia. Però ragazzi lo devo ringraziare perché ho scoperto una cosa che non sapevo, cioè io praticamente con un litro di zuppa faccio 15 chilometri.